Carrellata sugli attuali candidati a sindaco nei 10 comuni agrigentini al voto il prossimo 12 giugno. 8 col maggioritario senza ballottaggio. Sciac e Palma di Montechiaro con il proporzionale e l'eventuale ballottaggio. Le elezioni amministrative si svolgeranno in Sicilia domenica 12 giugno dalle ore 7 alle 23 con eventuale ballottaggio domenica 26 giugno. In provincia di Agrigento i comuni al voto sono 10 con il sistema maggioritario senza ballottaggio perché sotto i 15.000 abitanti ad Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita di Belice e Villa Franca Sicula con il sistema proporzionale con l'eventuale ballottaggio a Sciac e a Palma di Montechiaro. Ad Aragona, Bivona, Cattolica Eraclea, Lampedusa e Linosa e Santa Margherita Belice si eleggono 12 consiglieri. A Campobello di Licata e a Palma di Montechiaro si eleggono 16 consiglieri. A Comitini e a Villa Franca Sicula 10. A Sciacca 24. Lo scrutinio delle schede inizierà a conclusione dello spoglio delle schede relative ai 5 referendum sulla giustizia che si svolgeranno nello stesso giorno, l'Election Day. A Aragona l'uscente Giuseppe Pendolino contro l'ex presidente del Consiglio Provinciale di Agrigento Dino Buscemi entrambi sostenuti da liste civiche. A Bivona l'uscente Milco Cina, lista civica di centrodestra. Contro Carola Calafiore, lista civica di centrosinistra. A Campobello di Licata sono in gara l'ex sindaco Michele Termini, lista civica. Giussi Gamma Curta diventerà bellissima. Andrea Mariani, lista civica. Antonio Pitruzzella, partito democratico. A Cattolica Eraclea l'uscente Santo Borsellino contro il già commissario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine. A Comitini l'assessore Luigi Nigrelli, benedetto dal sindaco uscente Nino Contino, contro Gerlando Cuffarro. A Lampedusa e Linosa l'uscente Salvatore Martello, centrosinistra, contro Filippo Mannino, già a Movimento 5 Stelle. A Santa Margherita Belice ancora incertezze. A Villa Franca Sicula unica certezza è la ricandidatura dell'uscente Mimmo Balsamo. Poi a Sciancca sono in corso il già sindaco Ignazio Messina d'Italia dei Valori e il deputato regionale di Attiva Sicilia, ex 5 Stelle Matteo Mangiacavallo, sostenuto da liste civiche in aria di centrodestra. Il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre liste di centrosinistra parteggiano per Fabio Termine. A Palma di Montechiaro si ricandida il sindaco uscente Stefano Castellino, centrodestra e liste civiche. Atteso il rivale del centrosinistra. della vita appunto del Comune.